Sì, ho provato tutto. O ne toccai a balla, Mel? Devo morì! Signore, proteggili. E concedi all'Italia nostra la protezione tua e la materna custodia di Maria. Amen. Ma lo medico, Ida, dobbiamo passare la valle. E come la passiamo la valle? Da Maria Magdalena. A te, come la dobbiamo passare? Sono le streghe se la stingono a mangiare. Senato!